Voglio capire perché io ho 11 giocatori ma quando lui batte il calcio d'inizio va dritto come un treno e la mia squadra sembra il traforo del Monte Bianco Perché? Quando mia madre parla io prendo sempre gol Che razza di patto avete stipulato con le mamme? Perché prendo sempre gol al novantesimo? Ma perché quando sto vincendo l'arbitro assegna 8 minuti di recupero mentre se sto perdendo massimo 2? Perché prendo sempre gol al quarantacinquesimo? Già perché sei scasso Perché quando sto vincendo pardo inizia a gufare? Ma fatti fatti tuoi lasciami giocare cioè cosa ti ho fatto? Perché quando mi serve un punto per non retrocedere allora sistematicamente perdo? Perché l'arbitro fischia sempre la fine quando sto partendo in contropiede? Perché? Perché spendo migliaia di credit in pacchetti e trovo Vizcarondo e Zaccardo E mio cugino prende un pacchetto gratis e trova Messi, Ronaldo e Schumacher Ma perché quando metto ultradifensiva mi prendo sempre gol in contropiede? Oh ma ogni volta! Perché quando mio figlio gioca la play non può mai mettere pause? Perché quando gioco online non posso mettere la pause? Te l'ho detto 200 volte! Ma perché la demo è completamente diversa dal gioco vero? Ma perché si sono i giocatori buggati? Ma perché i giocatori si fanno male sempre nei momenti meno opportuni? Parto in contropiede e accrambo! E dai! Perché il momento? Cioè il momento non esiste Ma perché in una partita vanno straveloci e in un'altra partita invece sembrano tanti Montolivo infortunati? Non lo so più di così di fare Ma che caccao? Al novantè! Al novantesimo! Al novantesimo! Come c***o è possibile che lui arriva col portiere dal limite dell'aria e mi segna? Ma scusa per i perdenti questo Ma che c***o? Cosa dice la scusa per i perdenti? Ma io... Ma c***o vai a testa di c***o Ma dai c***o è amare! Lei vado pure al vuoro!